Benvenuti in questo nuovo video dove andiamo a vedere il gioco da tavolo di Stalker realizzato da Waken Realms. Per chi non lo conoscesse, Stalker è un videogioco molto famoso che a sua volta si ispira a un film e che a sua volta si ispira a un libro. In generale è una saga molto conosciuta, ma il gioco da tavolo si ispira principalmente al videogioco. Che gioco è Stalker? È un cooperativo di uno a quattro giocatori dove ogni giocatore impersonano Stalker, cioè una sorta di avventuriero che esplora i dintorni della centrale nucleare di Chernobyl e dovrà sopravvivere in un ambiente ostile abitato da fazioni in guerra, briganti e mutanti, stando contemporaneamente attento alle anomalie, cioè delle zone dove si verificano degli effetti molto pericolosi, ma dove è anche possibile trovare degli artefatti dal grande valore che possono dare abilità speciali. Il gioco da tavolo è organizzato a campagne narrative, non sono le classiche campagne da centinaia di ore, sono una serie di mini campagne composte ciascuna da tre partite per una durata totale di circa 10 ore. Il gioco base contiene tre di queste mini campagne, poi un'ulteriore è stata aggiunta con gli stretch goal e inoltre col pledge base è incluse un'espansione che permette di giocare delle partite singole randomizzate, contrariamente alle campagne invece che hanno una struttura molto fissa. A livello meccanico il gioco ricorda un po' un dungeon crawler dove abbiamo una mappa da esplorare, scoprire luoghi e completare i vari obiettivi e dove si finirà spesso a combattere. Come da tradizione a Waken Realms il gioco è molto American, si tirano parecchi dadi in molti contesti e la fortuna è presente. Il gioco nella sua versione base è venduto a 95 dollari, ai quali va aggiunta la spedizione che ha di 17 dollari se si vuole il gioco in una singola ondata nel 2025, oppure 30 dollari se si vuole ricevere una parte del gioco nel 2024 e il resto nel 2025. Il gioco sarà anche tradotto in italiano, ma se si va a prendere la versione localizzata i tempi stimati vanno aggiunti almeno 6 mesi. Inoltre rispetto agli altri progetti a Waken Realms qui l'iva non è inclusa ed è da aggiungere. E il gioco una volta spedito e divato viene a costare circa 125 euro nella spedizione in singola ondata e circa 135 nella spedizione in doppia ondata. Mi permetto di darvi un consiglio, non fate mai la singola ondata. I progetti a Waken Realms fanno sempre grandi ritardi e se prendete la singola ondata per di più localizzata, rischiate di non vedere il gioco prima del 2026 molto inoltrato e secondo me aspettare così tanto per risparmiare 10 euro sulla spedizione non ne vale la pena. Quindi vi consiglio caldamente la doppia ondata. Se vi state chiedendo cosa sarà nella prima ondata e cosa nella seconda, sostanzialmente la prima ondata contiene il gioco base, la seconda tutto il rimanente come le espansioni e gli stretch goal. La prima ondata sarebbe prevista per aprile 2024 per la versione inglese, non fidatevi assolutamente, sono tempi che ritengo ampiamente improbabili, a Waken Realms fa spesso ritardi anche di anni e penso che Stalker non farà eccezione, per cui personalmente la prima ondata in italiano me l'aspetto come minimo verso estate 2025. La campagna nel momento in cui faccio uscire il video resterà attiva per circa 9 giorni e il livello di cifra sta andando abbastanza bene, non è molto influente perché la maggior parte degli stretch goal sono giornalieri, ma sono presenti anche alcuni stretch goal minori di tipo monetario che stanno venendo sbloccati e abbastanza agevolmente. Detto ciò passiamo a vedere a grandi linee come funziona il gioco. Ora del gioco non è presente né una demo nel manuale, quindi le meccaniche le vedremo molto a grandi linee e inoltre parlerò solo della modalità campagna che è l'unica che è stata mostrata finora. Come vi ho accennato ogni campagna è composta da tre partite. I dettagli di ogni partita sono elencati in un piccolo libretto. Questo libretto ha definito il setup della mappa e le posizioni iniziali dei nemici. La mappa viene composta mettendo assieme varie tile, come potete vedere la mappa è divisa in caselle di dimensioni diverse e sono presenti delle linee arancioni che rappresentano ostacoli che vanno a bloccare le linee di vista. Sempre seguendo il setup in alcune posizioni della mappa andremo a mettere delle carte. Queste carte rappresentano delle parti della mappa con cui possiamo interagire. Andando nelle stesse caselle di queste carte, eventualmente adiacenti a seconda del caso, è possibile interagirvi, voltare la carta e andare a risolvere quello che ha scritto sul retro, che sarà sempre un po' di storia seguita da delle istruzioni di gioco. Nella parte esterna della mappa sono presenti anche dei nemici con le loro miniature, o stand in la versione base del gioco, dato che le miniature dei nemici sono contenuti in un pacchetto a parte e il gioco base contiene solo le miniature degli stalker. Anche all'interno degli edifici potrebbero essere presenti dei nemici e per vedere quanti quali nemici sono presenti all'interno dell'edificio, dovremo prima esplorarlo. È possibile che i nemici all'interno degli edifici appaiano anche da soli, senza che noi esploriamo effettivamente l'edificio, ma questo riguarda la meccanica del rumore e lo vediamo poi. Ora il gioco è fortemente narrativo. Ogni missione ha i suoi obiettivi, che tipicamente raggiungeremo man mano che esploriamo la mappa, dove andremo un po' attentoni esplorando le varie carte, esplorando troveremo quello che ci serve per completare la missione, o indizi e oggetti chiave per portarla avanti. Per girare le varie carte dovremo raggiungerle con il nostro stalker e qui entra in gioco il funzionamento dei personaggi. Ogni giocatore controlla uno stalker, i vari stalker sono tra loro leggermente asimmetrici, hanno alcune abilità di base che sono identiche, ma anche delle altre abilità che sono uniche e ognuno ha un suo equipaggiamento di partenza diverso dagli altri. Per gestire un personaggio si utilizza una plancia doppio strato, in cui andremo a mettere la carta del nostro personaggio e tutto l'equipaggiamento. Dalla plancia si può vedere che l'equipaggiamento possibile è abbastanza variegato, infatti avremo armi, armature, ma anche miglioramenti, oggetti nello zaino e così via. Sulla plancia avremo anche tre segnalini, questi rappresentano le azioni dello stalker. Come potete vedere un segnalino è più grande degli altri. Il segnalino più grande rappresenta l'azione lunga, i due piccoli l'azione corta. Potenzialmente ogni stalker nel suo turno può fare fino a tre azioni, che sono pagate spendendo questi tre segnalini. Le azioni che si possono fare non sono fisse. Ogni stalker sulla sua scheda riporta alcune azioni, tra cui quelle di base e comuni a tutti gli stalker, ad esempio il movimento o la gestione dell'inventario. Le altre azioni che possiamo fare sono date dall'equipaggiamento o dai punti con cui possiamo interagire all'interno della mappa. Sostanzialmente tutto quello che nei componenti di gioco ha il simbolo di un piccolo quadrato è un'azione. Se quel quadrato ha l'interno un piccolo punto, vuol dire che per fare quell'azione dobbiamo spendere un segnalino azione breve. Se quel quadrato ha l'interno un punto più grosso, vuol dire che per fare quell'azione dobbiamo spendere un segnalino azione lunga. Alcuni quadrati delle azioni potrebbero essere completamente vuoti e questi rappresentano le azioni gratuite, cioè che possiamo fare senza spendere segnalini azione. I segnalini azione quando vengono spesi non solo pagano l'azione, ma ci danno anche dei bonus che varia da segnalino a segnalino. Sulla parte destra di ogni segnalino sono presenti delle icone che potrebbero permetterci un rilancio dei dadi quando paghiamo un'azione con quel segnalino, potrebbero farci muovere in modo addizionale anche se non stiamo utilizzando un'azione di movimento o estendere di quanto ci possiamo muovere durante le azioni di movimento, o darci un successo gratuito quando lanciamo i dadi. Vi faccio un esempio perché è più semplice da vedere che da capire. Diciamo che questo personaggio vuole utilizzare la sua arma per fare un attacco. Uno che richiede un'azione breve e uno un'azione lunga. Decide di fare quello che richiede un'azione breve, cioè sparare un colpo singolo. Quindi deve spendere un segnalino azione breve. Ora diciamo che è ancora disponibile entrambi i segnalini azione breve e può decidere quale spendere. Se va a spendere quello che vi sto evidenziando, potrà muoversi di uno prima dopo l'azione e quando lancerà i dadi per vedere se l'attacco va a segno, avrà sempre un successo in automatico. Se utilizza l'altro segnalino dell'azione breve, potrà comunque muoversi di uno prima dopo l'azione, ma invece di avere un successo automatico avrà un reroll dei dadi. Quindi i segnalini azione non solo pagano le azioni, ma vanno anche a modificare leggermente l'azione stessa. Ora vediamo un'altra meccanica che è molto importante nel gioco, ed è il rumore. Molte delle azioni che possiamo fare vanno a produrre del rumore, rappresentato da dei token. I token sono di due tipi, gialli per indicare un'unità di rumore o rossi per indicarne quattro. Ogni volta che un personaggio si muove, va a mettere nella casella in cui si ferma tanti segnalini rumore quante sono le caselle su cui si è spostato. Quindi se un personaggio fa un'azione di movimento e si muove di due caselle, andrà a mettere nella casella in cui si ferma due segnalini rumore da uno. Generalmente il movimento produce rumore giallo, quindi poco rumore, mentre utilizzare un'arma da fuoco o alcune interazioni con lo scenario possono produrre del rumore rosso, quindi più rumore. Perché è importante la quantità di rumore? Perché quando tutti i giocatori avranno finito le loro azioni, toccherà i nemici, che si attiveranno seguendo un semplice schema di intelligenza artificiale, per cui se non hanno bersagli in linea di vista, possono fare due cose. Se hanno del rumore che possono sentire, si dirigono verso quel rumore, altrimenti continuano a pattugliare. Per vedere se c'è un rumore che possono sentire, si sommano tutti i segnalini presenti in ciascuna casella, per ottenere la quantità di rumore totale in quella casella. Poi si vanno a confrontare questi totali con la distanza dei nemici. Se c'è un nemico che ha una distanza pari o inferiore al totale di rumore su una casella, vuol dire che sente il rumore da quella casella. Ad esempio se in una casella sono presenti tre segnalini rumore gialli, vuol dire che c'è un rumore pari a tre, e un qualsiasi nemico entro tre spazi da quella casella sentirà quel rumore. I nemici a una distanza maggiore non lo sentiranno, e come vi dicevo, se sentono un rumore si dirigono verso quella casella. Se sentono più rumori si dirigono verso dove c'è il rumore maggiore. Se invece non sentono rumori e non hanno bersagli in linea di vista, continuano il pattugliamento. Come funziona il pattugliamento? Ogni nemico in pattugliamento si muove di una casella nella direzione in cui è rivolto. Poi il nemico potrebbe voltarsi. Per vedere se si volta si lancia un dado che riporta le direzioni cardinali, in base al risultato del dado si va a girare il nemico. Quindi in pratica i nemici in pattugliamento si muovono sempre di uno e poi si andranno a voltare in una direzione casuale. Ovviamente se un nemico o un giocatore in linea di vista è a portata, lo attaccherà. Ora come potete vedere accanto a ogni nemico è presente un token di un bersaglio. Quel token vuol dire che il nemico è allertato. Per capire l'allerta bisogna vedere le linee di vista. Ogni tipologia di nemico ha una sua carta che indica tutte le sue informazioni, come il movimento, l'attacco e anche il raggio. Il raggio a quanto lontano può vedere un nemico. Il raggio non è solo frontale ma anche laterale. Quindi un nemico vede immediatamente di fronte a lui e alla sua sinistra e alla sua destra. E ha visibilità fin tanto che non incontra un ostacolo, cioè una linea arancione, o fin tanto che non si va oltre il suo raggio. Quando un nemico è allertato dobbiamo stare attenti a farci vedere da quel nemico. Quando un nemico è allertato la sua linea di vista è più pericolosa, perché se un personaggio si ferma nella linea di vista di un nemico allertato, questo farà immediatamente un attacco anche al di fuori del suo turno. Se invece un giocatore passa la linea di vista di un nemico allertato ma non si ferma al suo interno, il nemico non effettuerà l'attacco ma quel movimento produrrà più rumore, cioè oltre ai token gialli che si mettono comunemente per il rumore da movimento, ne andrà messo anche uno rosso, che rappresenta il fatto che un nemico ci ha visto di sfuggita e quindi sarà più attirato dalla nostra posizione. Spesso e volentieri finiremo a combattere. Come funzionano gli attacchi? Quando attacchiamo noi dobbiamo guardare la carta della nostra arma, usare un'azione per pagare un attacco con quell'arma, attaccare con armi da fuoco consuma anche munizioni e dobbiamo avere ovviamente un nemico a portata in linea di vista. Quando attacchiamo dobbiamo anche dichiarare che parte del nemico attacchiamo. I nemici mostrati finora hanno due parti che sono la testa o il corpo. Ciascun tipo di nemico ha la sua carta che riporta quali parti del corpo possiamo colpire e quanti successi dobbiamo ottenere per colpire quella parte, oltre gli effetti che otteniamo se la colpiamo. Tipicamente colpirli in testa è più difficile ma mortale, quindi quando attacchiamo dobbiamo andare a tirare dei dadi per vedere quanti successi otteniamo e il numero di dadi che tiriamo dipende dall'attacco dell'arma. Come risultati dell'arma possiamo ottenere delle stelline che sono i successi o dei teschi che possono avere degli effetti negativi in base all'arma. Ad esempio se attacchiamo con l'arma che vi sto mostrando e se otteniamo almeno due teschi l'arma si inceppa. Ottenendo invece il numero di successi necessari per colpire la parte del corpo che stiamo attaccando andremo a risolvere l'effetto di quella parte del corpo. Come vi dicevo un colpo alla testa tipicamente è mortale, un colpo al corpo invece dipende, si va a lanciare un ulteriore dado che rappresenta se abbiamo inflitto una ferita al nemico e se questa è leggera o grave e in base a quanti successi abbiamo ottenuto è possibile che uccidiamo o no il nemico. In questo gioco i nemici mostrati finora non hanno salute o un colpo li uccide oppure no. Quando invece i nemici attaccano noi le cose sono un po' diverse. I nemici non tirano dadi in attacco, il loro attacco è fisso e riportato sulla carta di ogni nemico. Quelli sono i danni che ci infliggono quando attaccano. Noi possiamo provare a difenderci. Ogni stalker può avere dell'equipaggiamento protettivo che gli darà un certo numero di dadi in difesa e di un certo colore. Quando subiamo un attacco tiriamo quei dadi. In base ai successi ottenuti sui dadi possiamo andare a ridurre i danni come indicato dall'equipaggiamento ma se non riusciamo ad assorbire completamente il danno prenderemo una ferita. Il sistema di ferite ricorda un po' quello di Nemesis. Ogni volta che prendiamo una ferita prendiamo una carta ferita faccia in su. Questa riporta anche un effetto di quella ferita che ci darà dei malus permanenti fin tanto che abbiamo quella ferita. Se un personaggio possiede già tre ferite non può prenderne altre ma lì lancerà un dado e in base al risultato potrebbe morire oppure no. Quando un personaggio muore la missione attuale fallisce. Durante il proprio turno è possibile curare le ferite sia rimuovendole o in alcuni casi girandole a faccia in giù. In questo caso conteranno comunque nel limite massimo delle tre ferite ma non si applicherà più l'effetto scritto sulla carta. Poi ogni nemico dopo aver attaccato può avere un'abilità riportata sulla sua carta da eseguire dopo ogni attacco. Ad esempio alcuni nemici dopo aver attaccato cercheranno copertura. Anche i nemici quando attaccano producono rumore sulla nostra posizione rendendoci più evidenti agli altri nemici presenti nella mappa. I nemici non sono le uniche fonti di danno all'interno della partita. Sono presenti anche le anomalie. Ora qui non è presente la meccanica del videogioco in cui le anomalie sono invisibili e vanno trovate. Le anomalie sono visibili e presenti nella mappa o in versione stendina a gioco base o con una miniatura prendendo un'espansione. Interagire con le anomalie serve per ottenere alcuni oggetti chiave come indicato dalle missioni o per ottenere artefatti. Cioè oggetti equipaggiabili abbastanza potenti. L'interazione con le anomalie è totalmente casuale. Sostanzialmente ogni anomalie in base alla missione ha una carta che riporta gli effetti sia positivi che negativi che possiamo ottenere da quell'anomalia. Ogni effetto sono associati una serie di token. Quando un personaggio va a interagire con un'anomalia estrae dei token casualmente da un sacchetto guarda cosa corrispondono quei token nella carta dell'anomalia e ne applica l'effetto. Quindi l'effetto dell'anomalia è totalmente casuale anche se alcuni personaggi hanno abilità uniche che possono un po' mitigare la fortuna. Ma sicuramente non la vanno eliminare totalmente. Uno degli effetti che possiamo ottenere dalle anomalie utilizzando gli artefatti è essere esposti alla radioattività. Quando otteniamo della radioattività andremo a segnarla sul nostro personaggio. Ogni personaggio ha una piccola plancetta che rappresenta un contatore geiger e questa plancetta una rotellina per segnare il livello attuale di radioattività del personaggio. Parlando invece del round di gioco a una struttura molto semplice. Prima si attivano tutti i giocatori. Poi si attivano tutti i nemici come vi ho già spiegato seguendo il semplice schema di intelligenza artificiale. L'unica altra cosa che accade nella fase dei nemici riguarda i gettoni di spawn all'interno dei vari edifici. Come vi ho detto questi gettoni fanno apparire i nemici all'interno degli edifici o quando un personaggio esplora l'edificio. Oppure se quel gettone è un numero di caselle pari o inferiore a un rumore lì vicino. Cioè se in una casella viene fatto rumore 3 e c'è un gettone di spawn entro distanza 3, quel gettone viene rivelato automaticamente e indicherà quanti nemici appaiono e di che tipo. Una volta che sono stati attivati tutti i nemici c'è la fase finale del round. Questa fase non è fissa ma si va a guardare il libricino della storia. Questo indica passo per passo cosa accade in questa fase. Sostanzialmente equivale a una sorta di evento. Tipicamente verranno fatti rimuovere i segnalini rumore presenti in gioco e succederà qualcosa nella mappa come l'apparizione di nuovi nemici o l'apparizione di carte per interagire con l'ambiente. Una volta risolti tutti gli effetti si volta pagina del libretto della missione. Qui ci sarà un altro po' di storia e inizierà un nuovo round dove prima quindi si attiveranno i giocatori poi nemici e poi si andrà nuovamente a leggere nel libro della missione l'evento corrente. La cosa particolare di questo sistema è che alla fine di ogni round giriamo sempre pagina nel libro della campagna quindi la storia di round in round andrà avanti. Gli effetti che si attiveranno alla fine di ogni round potenzialmente possono cambiare sempre e si continua così fin tanto che non vinciamo non perdiamo. Se vinciamo si ritornerà al campo base eventualmente come ricompense della missione si possono andare a salvare degli alleati che andremo a inserire in un apposito quaderno ad anelli e che potrebbero darci vari benefici durante la campagna. C'è anche una piccola componente legacy dato che alla fine di ogni missione si vanno a mettere degli adesivi su una mappa del mondo che rappresentano come abbiamo influenzato una certa area anche se non sono sicuro al cento per cento che rimarrà così anche nella versione finale dato che come scelta è stata criticata da molti utenti. Ora come sempre andiamo a vedere il contenuto e gli stretch goal. Il gioco base contiene quattro stalker con le loro carte, i loro equipaggiamenti personali e le loro miniature. Sono presenti le planche dual layer per la gestione dei personaggi e i contatori geiger per la radioattività. Sono presenti un'ottantina di carte per equipaggiamenti e ferite, una cinquantina di standee per i nemici e una trentina di carte per rappresentare i nemici di diverse tipologie, gli standee delle anomalie e 10 carte anomalia. Sono presenti 36 artefatti che possiamo recuperare dalle anomalie, poi ovviamente sono presenti le tag che compongono la mappa e circa 200 carte che rappresentano i luoghi che possono essere esplorati all'interno della mappa e circa altre 200 carte per la campagna. Per ogni campagna è anche presente un libricino che è quello che scandisce gli eventi tra un round e l'altro e porta avanti la storia. È presente anche un raccoglitore per le carte che acquisiamo durante la partita e che andrà a rappresentare il campo base con tutti gli alleati che abbiamo trovato e gli oggetti che abbiamo recuperato. Poi nel pledge base è anche incluse un'espansione che permette di giocare partite one shot randomizzate ma non si sa ancora di preciso il suo contenuto. Poi sono presenti gli stretch goal qui è stata aggiunta una nuova campagna sempre di 3 missioni che porta le campagne totali a 4. Sono state aggiunte 9 carte per nuove armi, 8 nuovi stalker con carte di equipaggiamento personale, nuovi artefatti, nuove miniature per gli stalker che porteranno le miniature nella scatola base a 7. Tenete presente che non tutti gli stalker hanno una miniatura unica, le miniature degli stalker sono pensate come generiche e si va a prendere quella che piace di più. Sono stati aggiunti nuovi nemici e comunque prima di fine campagna mancano ancora un po' di stretch goal. A livello di espansioni troviamo le miniature per i nemici. Nel gioco base i nemici sono solamente in versione standee. Se vogliamo le miniature dobbiamo prendere questa espansione che costa 75 dollari ai quali va aggiunta l'iva. Questa espansione contiene 50 miniature. Sempre come estetica è presente un'espansione per le miniature delle anomalie. Come avviene per i nemici anche le anomalie hanno solo standee. Con questa espansione si possono avere le miniature in plastica colorata. Questa espansione viene venduta a 25 dollari e contiene 20 miniature. C'è poi un altro pacchetto per le miniature che è il pacchetto terreni e viene venduto a 39 dollari più iva e contiene le miniature per gli ostacoli e i muri in cartoncino per gli edifici. Come espansione di gameplay è presente la Monster Hunter. Si tratta solamente di uno stalker aggiuntivo con carta equipaggiamento e miniatura e viene venduta a 9 dollari oppure era gratis per chi seguiva la campagna prima del lancio o ha fatto un pledge nelle prime 48 ore. È presente un'altra espansione di gameplay e le storie personali che aggiunge per ciascuno stalker degli obiettivi da completare per andare a scoprire la sua storia personale e sbloccarlo in una versione veterana. Questa espansione viene venduta a 15 dollari più iva. Come addoncene uno completamente estetico e che non è legato al gioco è un diorama più qualche altro oggettino da collezione che viene venduto a 200 dollari più iva. Per le espansioni sono presenti anche un paio di pledge. C'è l'Adventurer Pledge a 165 dollari che include il gioco base e l'espansione con le miniature dei nemici. Oppure l'Explorer Pledge a 219 dollari che include il gioco base e tutte le espansioni che aggiungono le miniature quindi sono presenti miniature di nemici anomalie e terreni. Ora andiamo a trarre alcune conclusioni. Il gioco personalmente da un certo punto di vista mi ha lasciato un po' freddino. Più che altro perché mi piace molto l'ambientazione di Stalker e forse mi aspettavo qualcosa in più. A livello di meccaniche non ho visto niente di particolarmente innovativo. Sembra un gioco meccanicamente abbastanza classico. L'ambientazione e la storia potrebbe essere resa bene. Da un certo punto di vista ho trovato interessante che ogni singolo round della campagna sia scandito dal libro della storia e questo permette di avere degli eventi cuciti perfettamente alla partita ma dei contro va un po' ad ammazzare la rigiocabilità. Nell'unica missione rivelata finora non c'erano praticamente scelte all'interno della missione. Le esplorazioni erano fisse e l'unico motivo per rigiocarla sarebbe quello di provarla con uno Stalker diverso. Spero che le missioni successive avranno qualche scelta e qualche bivio narrativo ma per ora quello che ci è stato mostrato è molto subinari. Per riassumere le campagne potrebbero essere molto immersive ma poco rigiocabili e dato che possono essere affrontate con personaggi diversi non sono legati ai personaggi in sé ma hanno una trama autocontenuta e se si vuole un po' più di coinvolgimento con i personaggi bisogna per forza affidarsi all'espansione storie personali. E' anche vero che se le campagne sono poco rigiocabili comunque l'espansione zone survival aggiunta nel pledge base dovrebbe venire in aiuto offrendo missioni one shot randomizzate sarei curioso di capire la varietà effettiva delle missioni che proporrà e quanto saranno approfondite. Non vorrei che le missioni siano tutti uccidi banditi uccidi mutanti o recupero un oggetto dall'accampamento o cose del genere. Spererei in qualcosa di più articolato ma si vedrà. La meccanica del rumore pare interessante ma mi dà l'idea di essere confusionaria. Vedendo i vari video di gameplay il numero di token aumenta molto velocemente e in pratica si vanno continuamente a mettere e togliere token dalla mappa e alla lunga è possibile diventino noiosi da gestire. Anche il fatto di calcolare le distanze dei nemici dal rumore mi sembra che alla lunga sia un po' troppo macchinoso. Di per sé mi piace sia un gioco che ha una componente stealth con una meccanica del rumore ma la preferirei personalmente più immediata. Una cosa che non mi è piaciuta per niente è che i nemici in pattugliamento si girino in modo casuale che trovo vada un po' inficiare sulla pianificazione e inoltre trovo sia un po' noioso per ogni nemico in pattuglia dover ogni round tirare un dado per vedere come si volta. Il gioco è molto american si tirano un sacco di dadi si pescano token casuali e così via. Di per sé non è né un pregio né un difetto come sempre va a gusti. Personalmente per un gioco che mette tanto il focus sul movimento stealth e su un approccio tattico alle situazioni l'avrei preferito un po' più deterministico ma può andar bene anche così. L'unica cosa che trovo veramente fuori dal mondo sono i nemici che si voltano in direzioni casuali a ogni round. Il prezzo del base mi pare un po' altino considerando che tutte le miniature sono da prendere a parte se si vanno escludere quelle dei personaggi. È vero che sono presenti tante carte e tante tile ma parliamo sempre di minimo 120-130 euro che comunque potrebbero anche starci nonostante non sia l'offerta della vita. Mi sembrano invece molto costose le miniature che ritengo molto importanti sia perché gli standee come artwork non mi hanno fatto impazzire sia perché l'orientamento dei nemici è importante e penso che con le miniature possa rendere meglio. Quindi a gusto personale le ritengo quasi essenziali e metterle a quasi 100 euro una volta spedite e divate mi sembra un po' tanto fa praticamente raddoppiare il prezzo. Oltretutto le miniature del pack nemici non sono nemmeno tutte restano fuori le anomalie, restano fuori gli elementi dello scenario quindi se si vogliono tutte le miniature la spesa è consistente. A livello di componenti mi dà una buona impressione ma Waken Realms ci ha abituato bene negli anni. Personalmente penso di prenderlo ma principalmente perché sono curioso di vedere come è stata usata l'ambientazione più che per la voglia del gioco in sé perché come meccanica non è riuscito a colpirmi più di tanto. Con questo ho concluso come al solito vi lascio in descrizione il link alla campagna GameFound, se avete voglia fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del gioco e noi ci vediamo in un prossimo video.